Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Contè al Cinema. Non c'è persona italiana che non abbia studiato, letto o amato uno dei romanzi, delle opere, delle commedie di Luigi Pirandello. Il grande autore, premio Nobel per la letteratura, è il protagonista di una storia insolita che va a scavare dietro la genesi di una delle sue opere più celebri, sei personaggi in cerca di autore. Ed è così che ci troviamo nella Girgenti, paesino siciliano degli anni venti, nel quale Pirandello torna in occasione del compleanno del suo amico e maestro Giovanni Verga e si ritrova però a passare alcuni giorni al proprio paese perché concomitante a questo compleanno avviene la morte della sua storica balia a cui era molto affezionato. E il funerale è l'occasione per lui di conoscere Bastiano e Nofrio, due beccamorti molto originali che tra l'altro sono dei commedianti abbastanza amatoriali ma non per questo non scevri da qualche guizzo e intuito intelligente. E così il vecchio Pirandello li segue, li ascolta e da questa commedia dell'arte che è la vita trae proprio spunto per uno dei suoi capolavori massimi. E questo è il soggetto della stranezza firmato da Roberto Andò, regista e sceneggiatore di Fil come viva la libertà, le confessioni e il bambino nascosto che abbiamo proiettato lo scorso anno e che sceglie come suo Pirandello Tony Servillo, uno dei più grandi attori del cinema italiano, ma soprattutto, e sono davvero eccezionali, nei panni dei due simpatici, Bastiano e Nofrio, Ficarra e Piccone, due comici di Zeli che strisce la notizia e anche autori di diversi film come Il primo Natale, Il sette e l'otto, nei panni di questi due personaggi sono veramente strepitosi e perfetti, anche abbastanza inediti in un film che mescola il dramma e la commedia che è stato incredibilmente per un film d'autore il più visto in Italia nel 2022 rispetto al cinema italiano, 5 milioni e mezzo di incasso, nati grazie al passaparola di un film che ha conquistato pubblico e critica. Vedremo se conquisterà anche a voi. L'ora buona visione con La stranezza di Roberto Andò.